Io ho inseguito questa idea di una Cosenza che è una città dello stare insieme, è una città che unisce la tradizione, l'identità, la storia con un bellissimo centro storico e poi tutta una serie di episodi contemporanei, di innovazione che vendono questa città all'avanguardia anche dal punto di vista di fabbrica creativa. Noi abbiamo trattato sempre la città come se fosse un grande scenario di eventi all'aperto. Abbiamo differenziato anche i luoghi degli eventi in funzione delle stagioni, in funzione della particolarità degli spazi. Abbiamo naturalmente studiato i sistemi della città, che c'è questo valle proprio di un paesaggio ancora naturale, agrario, intatto, bellissimo, poi direttamente il centro storico e poi la prima fascia, la seconda fascia della città moderna. Proprio questa divisione è interessantissima e connettere queste cose non vuol dire per forza mescolarli, ma di rispettare le proprie identità diverse, le topografie diverse. I fiumi sono quelli che lo connettono. Lungo il fiume abbiamo realizzato il ponte di Calatrava, il planetario, il museo di Alarico, gli stessi box art, i due complessi monumentali che sono stati restaurati con altri musei all'interno. Quindi un fiume che diventa occasione di rinascita della città, anche del centro storico, con tutta una serie di episodi culturali che lo qualificano. Un'infrastruttura che si connette con un sistema pesagistico, un sistema verde. Questo dovrebbe essere l'obiettivo della programmazione, pianificazione, ma poi anche della progettazione della città. Abbiamo investito molto su questa idea di città. Una città delle persone e non delle macchine. Una città della salute e del benessere. Una città che diventa anche sempre più bella. Quindi una città fabbrica creativa dove investiamo sulla bellezza. Una bellezza che diventa anche etica nella città. E' una città che migliora non soltanto dal punto di vista fisico, strutturale. E' una città che migliora la vita degli uomini che vivono quella città. Quindi migliora gli uomini stessi. Un'infrastruttura Un'infrastruttura